Grazie, Presidente. Ministro, la ringraziamo innanzitutto perché Consolersia ha promosso l'avvio del Comitato interministeriale nato dall'iniziativa legislativa del collega Dattis e mia per impostare le dinamiche di sviluppo dei territori di Civitavecchia e Brindisi nella fase post-carbone. Il 26 luglio si è riunito quel tavolo, luogo istituzionale preposto a discutere e soprattutto a proporre in maniera concreta ed efficace. Le chiediamo quali saranno i prossimi step anche in relazione alla necessaria ricerca di fondi e risorse adeguate per dimostrare nei fatti che queste aree che tanto hanno dato nei decenni in termini di approvvigionamento energetico nell'interesse nazionale ricevano la giusta attenzione e considerazione. Le comunità locali di Civitavecchia e Brindisi hanno fiducia e siamo certi che questa speranza, grazie a questo Governo, non verrà disattesa. Grazie, Onorevole. Il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere. Si confermo. Dopo la sollecitazione avvenuta in quest'Aula ho subito convocato il tavolo per il 26 luglio scorso e in quell'occasione sono state discusse possibili soluzioni per la riconversione dei poli energetici di Civitavecchia e di Brindisi. Il tavolo si è concentrato sul progetto eolico offshore, oltre che sui progetti relativi a fotovoltaico e batteria. Però abbiamo anche appurato che non è possibile fare ricorso agli IPC per finanziare questi progetti. Allora stiamo valutando la possibilità di ricorrere ad ulteriori strumenti agevolativi da regime d'aiuto della legge 181 a 1989, dedicato al finanziamento di programmi per la reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi industriali, allo strumento agelo volativo dei contratti di sviluppo, misura a supporto di programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni, finalizzate al rafforzamento delle filiere produttive. Per questo ovviamente ci servirà la collaborazione delle due regioni interessate e su questo sarà finalizzato il prossimo tavolo affinché appureremo finalmente se esistono e come esistono, utilizzando questi strumenti, le potenzialità per finanziare l'opera necessaria di riconversione dei poli energetici. Nelle prossime settimane convoqueremo il nuovo tavolo per giungere a una conclusione, mi auguro, positiva. Grazie, Ministro. A facoltà di replicare il deputato Dattis per due minuti. Prego, Onorevole. Grazie, Ministro. Come sa, apprezziamo molto il fare concreto che ha voluto dare lei, il Governo, su questa norma nata, diciamo, da un'iniziativa estemporanea di due parlamentari che sono qui, ma che evidentemente è stata opportuna. Brindisi e Civitavecchia sono state escluse dai Governi di centrosinistra, dal Just Transition Fund, cioè dalla possibilità di essere considerati anche dall'Unione Europea i territori di transizione vera del post-carbone, assurdo, quando proprio Brindisi e Civitavecchia hanno ospitato per decenni le centrali più grandi d'Europa, a carbone naturalmente. Quindi grazie per questo ulteriore elemento di aggiornamento della riunione del Comitato. È ovvio che è un momento difficile, perché lei sa che le comunità di Civitavecchia e di Brindisi sono parecchio preoccupate. È un momento difficile che però può diventare strategico. E insieme all'elenco dei fondi ai quali sta guardando con attenzione il Governo ci sono ovviamente anche gli investimenti dei privati. Guardiamo, Ministro, con grande attenzione alle risultanze del piano industriale che Enel prevede di presentare in autunno. E guardiamo anche con grande interesse all'utilizzo delle opportunità che il Decreto Sud, proprio in discussione in questi giorni alla Camera, potrà offrire. Confidiamo molto nell'attività di raccordo del suo Ministero, della sua persona, e le chiediamo di continuare così, magari non fissando soltanto una data, ma diciamo fissando una data ad oltranza finché non si arrivi ad una soluzione giusta per i territori di Brindisi e Civitavecchia. Grazie, Ministro.